Ve lo immaginate che la seconda ricerca in assoluto su come fare su Google non riguarda la tecnologia? Allora riguarda il sesso! No, non riguarda il sesso, è questa, come fare i pancakes. Eh sì, gli americanissimi pancakes sono entrati nelle nostre cucine e non sono l'unico cibo di tendenza del 2018. Tra i primi 10 come fare, ricercati tutto l'anno, i primi 6 sono domande che riguardano la cucina. Pancakes, zucchine, maionese, pesto, salsa di pomodoro, caramello. Oggi vediamo come rendere sani, oltre che trendy, questi cibi ricercatissimi. I pancakes potete farli con latte di riso al posto del latte di mucca e con zucchero di canna. Come farina suggerisco quella proteica, come faccio vedere in questo video. Per insaporirli, sciroppo d'acero, ma quello naturale, senza zucchero. Oppure la mia Nutella da New Open Source, fatta in casa, cioè la squalella che descrivo in questo video. Le zucchine io le faccio cuocere in padella con un filo d'olio, brodo vegetale in polvere e fogliette di menta fresca. Sono leggerissime. La maionese si può fare senza uova, in questo modo, con latte di soia, olio di semi, senape, limone e un pizzico di curcuma per dare il colore. Il pesto potete renderlo più digeribile senza aglio, oppure usando l'aglio già schiacciato e non lo spicchio intero. Così si sente meno. La salsa di pomodoro io la faccio senza soffritto, con un po' d'olio, sale rosa dell'Himalaya, ma quello vero, non quello colorato, e aggiungo fogliette di basilico e origano, così accontento tutti in famiglia e la salsa viene bella saporita. E il caramello viene benissimo anche fatto con lo zucchero di canna al posto dello zucchero bianco. Invece, tra le dieci ricette più googlate, la pastiera napoletana ha superato il tiramisù. A seguire in classifica Carbonara, Colomba Pasquale, Casatiello, couscous, frittelle di carnevale, sangria e infine i passatelli. Interessantissimo, qui si passa da una regione all'altra. Ora vediamo qualche idea per rendere più leggere anche queste ricette. La pastiera napoletana. Si può fare la crema con il latte di mandorle e al posto della ricotta usare una crema dolce a base di tofu. Il tiramisù io lo faccio con la base di biscotti vegani e poi budino di soia e panna vegetale al posto di uova e mascarpone. Viene benissimo. E per la Carbonara uso il tofu affumicato o le barrette di seitan gusto bacon al posto della pancetta. La Colomba Pasquale, beh, si può fare con lo zucchero di canna e la margarina vegetale bio al posto del burro. Viene uguale uguale ma più leggera. Il casatiello non lo conosco, so che può essere dolce o salato. Nella versione salata magari meglio verdure saporite, tofu e seitan piuttosto che formaggio e salumi. Magari potete dare voi qualche consiglio nei commenti. Grazie! Le frittelle di carnevale, che delizia! Io uso la farina integrale e ci metto tante mele e uvetta, così sono dolci ma più leggere. La sangria è solo la sangria, non si può correggere. Posso solo consigliare di andarci piano oppure trasformarla nella versione analcolica, con tè di carcadè e succhi di frutta. I passatelli sono emiliani, sono a base di uova e parmigiano, ma si possono fare così. Uova bio freschissime, parmigiano di oltre 36 mesi, magari senza caglio animale e brodo vegetale, così tutto è gustoso ma molto più leggero. Avete visto stare leggeri e mangiare bene? Anche per google si può. Se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!